La moto si è impuntata ed è caduta a terra. È accaduta nel pomeriggio di martedì 23 luglio intorno alle 16 sul ponte Preti a Stramminello. Pare, secondo alcuni automobilisti che hanno assistito la scena, che il centauro abbia visto la vettura che stava procedendo davanti a lui inchiodare di colpo. Nel tentativo di frenare, la moto, una Ducati, si è impuntata ed è caduta a terra. Sul posto sono intervenuti la cociola 6 Castellamonte e i carabinieri. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Ivrea con contusioni alla spalla e alla schiena. Non è in pericolo di vita.